Una realtà sportiva tra le migliori in Italia per organizzazione e numero di atleti che ogni giorno praticano lo sport dalle più disparate discipline, dal calcio al pugilato, dal basket alla pallavolo sia maschile che femminile, oltre 600 atleti ed un palazzetto dello sport che fa i media a mezza Italia. Questa è la polisportiva matese che include atleti dall'intero territorio, numeri realizzati in nemmeno cinque anni di attività. Di questa realtà ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato della polisportiva Bruno Pagliaro. Allora, quattro anni di polisportiva, già 600 atleti, dove vuole arrivare questa polisportiva matese? La polisportiva è nata per dare una mano a chi fa sport sul territorio, dargli le infrastrutture, creare degli spazi idoni ai nostri ragazzi, ai nostri atleti, cercare di farglielo fare nel miglior modo possibile. Sicuramente abbiamo fatto molto, ma c'è ancora parecchio da fare. Noi dobbiamo raggiungere risultati sempre più ambiziosi, in linea con quelle che sono le potenzialità del territorio e dei nostri atleti. Siamo partiti con una grande volontà, i ragazzi stanno rispondendo, stiamo mettendo insieme un pochettino le risorse del territorio e credo che insieme si può raggiungere un risultato che sia importante, soprattutto per i nostri ragazzi. A proposito dei risultati, questo palazzetto dello sport è un gioiello apprezzato anche fuori dalla provincia di Caserta? Sicuramente. Questa realtà, tutte le squadre che sono venute qua a Piedimonde sono rimaste sorprese. Questo ci fa sicuramente piacere, ci dà coraggio per il lavoro che abbiamo fatto e che dobbiamo fare. E' un primo passo sul nostro obiettivo, sul nostro modo di lavorare. Dobbiamo continuare perché è giusto che chi fa sport, i ragazzi del territorio, abbiano degli ambienti, degli spazi dove si possono esibire oppure possono svolgere l'attività sportiva in maniera veramente decente. Noi, questo palazzetto è destinato sia alle prime squadre ma anche ai ragazzi delle varie scuole calcio, basket e pallavolo. Cioè, al turno è un modo dove tutti i ragazzi del territorio possono svolgere l'attività in qualcosa che sia di qualità. L'ultima domanda è questa. Il calcio a Piedimonde, quale sarà il futuro dopo purtroppo la retrocessione di quest'anno? Il calcio è fondamentale per il territorio. Noi ci abbiamo messo la faccia e l'impegno quando eravamo ultimi in classifici. Perché ci crediamo e sappiamo che c'è molto da lavorare. Il calcio deve migliorare, soprattutto come struttura, si è messo insieme anche con la scuola calcio. Prima la scuola di calcio era solo quella di serie D e oggi il discorso è far sì che diventa un'accademia del calcio, ci dia la possibilità ai ragazzi di crescere per avere la prospettiva di arrivare in prima squadra e la prima squadra deve essere ambiziosa anche di raggiungere risultati dove fino ad oggi non sono stati mai raggiunti. Inevitabilmente quando si inizia una strada c'è da ristrutturare, da rigenerare un ambiente e un contesto ma noi come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto proprio con la prospettiva di lavorare per arrivare a portare qualcosa di molto ambizioso su Piedimonte ed è sicuramente l'inizio di un percorso, non certamente la fine. Inevitabilmente